E' stato presentato quest'oggi a Grottaglie l'evento Passerelle Mediterranea 2021, le spose della Magna Grecia. La tre giorni si svolgerà dal 16 al 18 settembre 2021 tra Grottaglie e Taranto. Il progetto coinvolge istituzioni regionali, locali, associazioni e imprese che danno lusso alla Made in Poglia. Un lavoro sinergico che è stato illustrato questa mattina presso la casa vestita in via Crispi nello splendido quartiere delle ceramiche di Grottaglie. Stiamo arricchendo sempre di più l'offerta turistica ma anche l'offerta produttiva del nostro territorio. Abbiamo creato questo grande connubio che mette insieme il saper fare dei nostri artigiani e dei nostri artisti. In questo caso possiamo dire che la grande manualità del territorio rende grande appunto il territorio stesso. Stiamo provando, riuscendoci bene direi, a portare questi eventi e la conoscenza del nostro territorio anche fuori dalla regione Puglia, prodando anche a Milano ma stiamo lavorando appunto per farci conoscere anche all'estero. Quindi una grande promozione con l'intesa che tutto questo avrà ricaduto sul territorio in termini di attività produttive. Questa partecipazione nasce e sono orgogliosa di darla perché la Urban Events ha praticamente programmato un evento così straordinario, così bello che non potevo tirarmi indietro in quanto cuce e unisce l'arte, la solidarietà, la moda nel territorio praticamente. Sono orgogliosa proprio di farne parte e sarà proprio il film rouge della mia nuova collezione Sposa 2022.